oh mamma guarda Reppy la fanta allunga ma ha un colore stranissimo ciao a tutti ragazzi siamo Reppy e Molly e ben tornati in un nuovo fantastico video oh non vale non vale non vale non vale hai già preso l'accento speciale oh aspetta 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 prima di tutto dobbiamo spiegare le regole di questo gioco questo non vale ma dai questo non vale ma direi perché quello lo voglio prendere io ho beccato il zolli riuscite a vederlo allora che cosa facciamo oggi qua davanti abbiamo un sacco di numeri Reppy e ci sono tutte delle bibite misteriose super particolari che oggi proveremo a bere sei pronta? non vedo l'ora quindi ragazzi funzionerà così vedete qua sopra ogni bibita ha un numero noi gireremo le nostre bellissime ruote questa è una prova eh ad esempio ti viene x se viene x niente tira l'altro ad esempio se viene 3 dobbiamo bere la bevanda 3 e quindi ragazzi lasciate un bel like ed iscrivetevi se non siete iscritti perché è inizioso oh numero 6 ok allora 1 2 3 4 5 6 ok ok la bevanda misteriosa della Reppy sarà oh vediamolo subito ecco qua ragazzi allora è un succo d'arancia e un po' particolare facci vedere perché ci avrà un ingrediente un po' strano dentro che non so che cos'è facci vedere facci vedere guardate aspetta vediamo allora capriccian orange dai che è andata abbastanza bene non so che cosa sia allora qua sotto c'è una cannuccia quindi suppongo che lo dovrò bere ma non si riesce a staccare la cannuccia vai ragazzi apri apriamo un pezzo secco nooo ok questo succede quando si provano le bibite strane esatto allora adesso si fa così si aprirà in quest'altro modo ecco qua ah ma allora è facile ho capito perché è strana questa bibita perché non si riesce a bere ragazzi ok vai oh oh cos'è sta brodaglia l'odore è buono vediamo un po' oh sembra pipì di gatto no dai lo sapevo lo stesso è pipì di gatto nooo che schifo dai bevi allora sentiamo com'è com'è ma è dolcissima mi è piaciuta molto ok tocca molli via oh numero sette no dai non ho più grande ok vediamo com'è ma guardate è il numero più grande cioè molli è il solito fortunato oh 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 non ci posso credere la fanta all'uva oh mamma guarda Reby la fanta all'uva ma ha un colore stranissimo io non l'ho mai vista la fanta all'uva ragazzi voi l'avete vista l'avete mai assaggiata ingredienti acqua oh mio dio e c'ha anche l'uva oh mamma versala versala vogliamo mettere come il bicchiere sentiamo oh sentiamo ma è frizzante guarda fa il fumo prova prova vai 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 cosa c'è adesso fa un odore strano non è buona oh oh sembra vino è rossa guardate che roba dai ma anch'io la voglio assaggiare questa sembra sangue mmm com'è oh non ti piace è super zuccherosa mmm ma che sapore ha? sa di uva? ma sa di uva zuccherina ma cosa vuol dire uva zuccherina? ok devo dire non saprei come giudicarla tocca di nuovo a me allora siete pronti via fai che c'è il jolly lì eh no mi dispiace niente e quindi me la posso ritirare vado dai vai te la bono eh però s'errire in istoc trials Oh camento Ok vado 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 johnne 1 sei sempre il solito fortunato 3 2 1 ok vediamo il numero 1 vai prendo il numero 7 numero 1 cos'è sta roba? che cos'è? cos'è sta roba? è una levanda estiva guarda ma c´è delle panne oh ma questa ginger beer regular oh mio dio ma che cavolo è questa cosa sembra molto estiva vai Molly provala va bene mi piace non voglio sentirla secondo me questa è la bibita numero uno perché è d'oro vedi che è dorata e poi non l'abbiamo detto ma queste bibite vengono dall'america quindi noi non abbiamo idea di che sapori abbiano che cosa sia vai Versa la voglio vedere che coloro è trasparente e volevo fare la sfida di che colore era per il dolore guarda pensavo che fosse verde guarda invece è bianca non lo so che colore ha ma ti piace ma sa di il ginger cos'è in italiano il ginger è lo zenzero a me non mi piace com'è vai non ce n'è neanche una buona di queste bibite oh mamma mia basta 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 beh direi che fino adesso non siamo stati molto fortunati forse sarebbe tentato meglio te che hai fatto la x forse sì è vero riproviamo dai Dai, ritira, dai Mamma mia, come sei sfortunato Quattro E c'è mancato poco al jolly Due, tre, quattro, vai Vediamo Oh, finalmente Apri, apri La patta alla fragola Non ci posso credere, la patta alla fragola Ma è bellissima Guardate, ragazzi, guardate Ci sono le fragole Stai ferma, facciano vedere Allora, oh, mamma mia La patta alle fragole È troppo bella Guardate, la patta alla fragola, io non lo so La fortuna è tutta te Apriamo questa patta alla fragola Chissà di che cosa sa E beh, di fragola Apri, 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 apri È interessante Vai, vediamo L'odore sembra molto buono Fa vedere, fa vedere Guardate, guardate che colore È bellissima È rosso sangue Mi sa che questa è pure buona È fragolosa Vai, assaggia Assaggia, assaggia Assaggia Com'è? È molto buona questa Assoluta fortunella È pure prezzante Mi piace Ok, quindi La patta alla fragola Ha superato la prova Per ora è la bibita migliore Allora Se becco il jolly Mi dai un bacio No, ma dai Becchi il jolly Prendi quello che c'è nel jolly Oh, 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 oh No, dai Ti ho fatto ritirare Ok, dai Puoi ritirare Dai, jolly Ehi, ritornami Va bene Va bene Meglio Non bevo queste cose Di sgusto Guarda Che era buona Quella alla fragola L'ultimo tiro Ok, dai Sì E allora Vado E allora Via, via Molli Tacca a me Ed è di nuovo Il turno della Rami Oh Tre Il mio numero fortunato Vediamo Il numero tre Numero tre Oh È una bevanda alla pesca Ehi, fammi un po' vedere Bella Ma guardate un po' Ma guardate un po' Una bevanda alla pesca Però è pure frizzante Non ci posso credere Cioè, c'è scritto Pesca frizzante Non ci credo Vai, bevila Ma che è molto buona anche questa Io direi Apriamola Oh Oh Terebbi sempre le cose più buone Questa fa pure un buon odore Vai, vai Vediamo Vediamo Oh Ma è rosa È rosa Anche questa È rosa Eh, ma la pesca è un pochettino più rosazza Ma io non ho mai visto una bibita rosa Guardate, è frizza Un po' di frizza Vai Provala Assaggiamo Com'è? Degustazione Reby Buona? Devo ancora assaggiare Ma come devi ancora assaggiare? Basta, hai già assaggiato Com'è? È ancora più buona di quella di prima, ragazzi È fantastica C'è questa È una cosa spettacolare Molly, dovresti proprio assaggiarla Ok, fammi un po' sentire Buonissimo Ok Molly Attenzione perché manca solo il Jolly E questi due numeri Giro con la faccia Giro molto bene, hai capito? Fail X 3 Non c'è più il 3 Quello è il 2 No Vabbè, posso aprirla Dai, è più vicino al 3 Ma no, devi girare di nuovo Dai, giro finché non ne avviene uno Ok, va bene Ok, facciamo così Quello che viene più vicino Ha la ruota Ok Ok, vai Ok, il 3 Quindi il 4 Il più vicino è il 4 qui O il 2 O il 2 No, che cavolo dici? O il 2, vero? Dai, ripiro Ok, il 4 Vado Vai Oh 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 Big Red No, non ci posso credere ragazzi C'è ma questa Fai vedere, fai vedere Questa è Coca alla fragola Coca Cola alla fragola Coca Cola alla fragola Non ci posso credere Dai, sei il solito fortunato Anch'io voglio assaggiare la Coca Cola alla fragola Rebbe, ha un sapore buonissimo Sì Guarda la schiuma Ma è bellissima Guarda la schiuma che è sbattata tutta via Molly, sembra sapone Oh, è super dolce Com'è? È buonissima È veramente buona Allora ragazzi Quanti ti vuole per provare la Coca Cola alla fragola? Coca Cola alla fragola ragazzi Lasciate un mi piace se la volete bere anche voi Se lascia un mi piace posso provarla anch'io? Sì Sì Allora Molly propongo uno scambio Ok Allora io assaggio l'ultima bibita E il Jolly lo beviamo insieme Accetto Vai E non sappiamo che qui sotto c'era il cioccolato No, no, lo sapevi No, lo voglio io È cioccolato Fa vedere, fa vedere, fa vedere Guarda Yahoo Chocolate drink Questo non esiste da noi comunque Eh, infatti è abbastanza strano Speriamo sia buono Perché magari è un cioccolato un po' diverso Allora ragazzi Lo taglierò con le forbici Così vi facciamo vedere il colore Perché se no con la cannuccia non si vede dire Oh Oh È già uscito? No, sta uscendo La faccetta dei milagri Mettiamo la bicchiera che esce Prendiamo Oh Cioccolato Grazie mille Ma dove? Era il mio turno Grazie mille Ma no Ma no È veramente buono È buono È buono C'è, provalo, provalo Vediamo L'odore è molto buono Molto buono È buono Mi sa di no Non è molto buono Non è molto buono Ha un odore di latte scaduto Il nostro Nesquik vince E come ultimo ingrediente È arrivato il momento dell'ingrediente speciale Mi faccia vedere, mi faccia vedere Rebechina Questo qui si chiama Woolhide Guardate c'è un signorino Ma cosa stai dicendo? Allora questo qui è un drink speciale Perché bisogna prepararlo così Allora bisogna versarlo All'acqua naturale Bisogna versarlo Bisogna metterci dell'acqua E anche del ghiaccio C'è scritto Boh Proveremo se funziona lo stesso Ma quindi è tutto Ah siete pronti Secondo me esplode Aspetta Metti l'acqua prima Metti l'acqua Mettiamo l'acqua prima Vado eh Ok ma quindi È un Oh È blu No è bellissimo Ma che bello Assaggia Eh lo dovremmo mischiare Diamo una bella mischiatina a questo contenuto Rebechina che sembra passato di pomodoro Molly ma ogni volta che devo bere qualcosa mi dici Sembra quella Sembra quella E poi mi fai passare la foglia di pepe Dai prova a bere Prova Sei il coraggio Sembra zuppa di carota e di cipolla Perché non provi tu? Allora sembra cipolla carotata di sedano pomodorata Com'è? Non mi fa impazzire Assaggiamo Vediamo Com'è? È asprissimo Allora ragazzi mi raccomando fateci sapere qual è stata la vostra bibita preferita qua sotto nei commentini E noi ci vediamo domani con un altro fantastico video Ciao 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 Ciao